Dal libro del profeta Isaia Ascoltatemi o isole, uditi attentamente in nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia puntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto, mio servo sei tu Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, in vano faticato, per nulla e in vano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato col suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i sopestiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliosi sono le Tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia e di Pisidia, Paolo diceva Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Ieste, uomo secondo il mio cuore. Egli adempierà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione, Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio Alleluia, alleluia Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà in alza il Signore a preparargli le strade. Alleluia Signore sia con voi Al Vangelo secondo Luca Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne No, si chiamerà Giovanni. Le dissero Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni al suo padre come voleva che si chiamasse e gli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati All'istante gli si aprì la bocca e gli ci solse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cor loro dicendo Che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore Sia lodato Gesù Cristo Quest'oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato tratto dal capitolo primo di San Luca ci mostra come avviene la consegna del nome a San Giovanni da parte dei suoi genitori e ci fa vedere come la gente il popolo le persone i conoscenti gli amici i parenti non riescono ad accettare questo nome Giovanni non c'entra niente con tutta la storia di questa famiglia non c'entra niente secondo le regole umane non secondo la regola di Dio non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome e allora? e allora? ci sono delle regole umane che non c'entrano niente con Dio noi rischiamo alle volte di sovrastrutturarci di darci delle norme che a Dio non interessano e infatti Dio aveva scelto per questo bambino un altro nome Giovanni nessuno si chiamava come Giovanni e nessuno doveva chiamarsi come Giovanni perché era unico questo bambino addirittura a partire dal suo nome non solo dalla sua persona tanto è vero che il Signore concede un miracolo un segno miracoloso che fa capire a tutti che quella era la sua volontà la lingua di Zaccaria si libera e inizia a parlare domani l'abbiamo già detto celebreremo la festa del cuore eucaristico di Gesù e anche per il cuore eucaristico di Gesù ci furono dei problemi delle sovrastrutture umane che poi la provvidenza di Dio ha spazzato via ma in tutte le cose che scompigliano il nostro tram tram un po' viziato non c'è spazio per Dio e noi dobbiamo fare spazio per Dio non c'è nessuno che si chiami con questo nome e allora da oggi ci sarà qual è il problema? il primo riconoscimento della devozione al cuore eucaristico di Gesù si ebbe nel 1868 nei giorni precedenti lunedì, martedì vi ho spiegato un pochino la parte teologica e spirituale poi domani vedremo qualche altra ma oggi vorrei concentrarmi sulla parte storica voi direte ma padre la parte storica cosa ci interessa? no bisogna sempre dare le fonti di ciò che si dice sempre inserirlo nella storia della Chiesa perché se no uno può dire ma questa qui è una devozioncella inutile una delle tanti inutili da così da persone un po' bigotte no, no non è una devozioncella quando Papa Pio IX concesse un'indulgenza dall'invocazione lodato, adorato, amato e ringraziato sia ad ogni istante il cuore eucaristico di Gesù in tutti i tabernacoli del mondo fino alla consumazione dei secoli Pio IX un decennio dopo un decennio dopo Papa Leone XIII pensate con quattro brevi apostolici non uno quattro sostenne promosse la devozione al cuore eucaristico e chiarì che essa intende suscitare la riconoscenza all'amore di Gesù per il sacrificio attuato sulla croce e perpetuato in modo incruento nell'eucaristia ulteriori approvazioni vennero dai congressi eucaristici internazionali di Lille 1881 e di Avignone 1882 attorno al 1900 casualmente si scatenò contro il cuore eucaristico un vento di persecuzione ovviamente all'interno della Chiesa questa frase di oggi del Vangelo non si chiamerà non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome questa frase ritorna nella storia della Chiesa in tante occasioni è un'opposizione allo Spirito Santo è un'opposizione alla divina provvidenza di Dio il Santo Uffizio arrivò a ritenerlo superfluo perché è identico a quello del Sacro Cuore l'intervento di eminenti teologi fugò queste obiezioni e questa persecuzione padre Alberto Lepidi che fu teologo e canonista del Papa per ben 28 anni così spiegò la differenza tra le due devozioni la devozione a Sacro Cuore perché noi siamo nell'ottavario del Sacro Cuore non dimentichiamoci che venerdì abbiamo fatto la solennità del Sacro Cuore di Gesù la devozione a Sacro Cuore onora in modo generale l'amore di Gesù che porge all'uomo i benefici della redenzione dell'incarnazione della passione della risurrezione la devozione al Cuore Eucaristico invece onora in modo particolare ben preciso l'amore di Gesù che volle che istituì l'Eucaristia per restare sempre con noi donandosi all'uomo nella realtà del suo corpo e del suo sangue capite Sacro Cuore di Gesù l'amore in generale il Cuore Eucaristico di Gesù l'amore in particolare dell'Eucaristia poi arriviamo al 16 febbraio 1903 quando Papa Leone XIII con il breve Ad Note Nobis affidò il culto e l'apostolato del Cuore Eucaristico di Gesù addirittura a una congregazione ai padri redentoristi perché quella devozione scrive il Papa conveniva ai figli di Sant'Alfonso Maria dei Liguori il grande apostolo della devozione al Sacro Cuore di Gesù e nello stesso breve il Santo Padre mise questa definizione una devozione che onora con particolare culto di riconoscenza di amore l'atto di suprema dilezione col quale il nostro divino Redentore prodigando tutte le ricchezze del Suo Cuore istituì l'adorabile sacramento dell'Eucaristia per restare con noi fino alla consumazione dei secoli notate solennità del Corpus Domini Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque chiede che venga istituita la festa del Suo Sacratissimo Cuore nell'ottavario del Corpus Domini poi chiede che nell'ottavario del Sacro Cuore di Gesù venga messa la festa del Corpus Domini del Corpus Domini avete visto? una trilogia una in fila all'altra devozioni certo di tutto rispetto addirittura solennità e 9 novembre 1921 Papa Benedetto XV firmò il decreto col quale concedeva la messa e l'ufficio propri del Cuore Eucaristico e istituiva la festa del Cuore Eucaristico da celebrarsi il giovedì dell'ottava del Sacro Cuore con messa e relativo ufficio proprio pensate un po' quindi vedete nella storia della Chiesa come ha preso corpo ed ecco la preghiera completa citata nel decreto approvata ed ed ungenziata da Papa Pio VI con riscritto del 7 novembre 1796 da Papa Pio VII con riscritto del 9 febbraio 1818 poi ci fu San Pio X che dice nulla ci sta più a cuore e ci torna più dolce che propagare ed accrescere nell'universo intero la pietà dei fedeli verso il Cuore Eucaristico di Gesù San Pio X poi ci fu Papa Pio XII Auretis Aquas con questa enciclica promosse la devozione con queste parole non si potrà facilmente comprendere l'amore che ha spinto il Salvatore a farsi il nostro spirituale alimento se non coltivando una speciale devozione al Cuore Eucaristico di Gesù come si può non comprendere che in tutta la storia della Chiesa con questi grandi papi Dio ha voluto che noi amassimo il Cuore Eucaristico di Gesù ed ecco quello che vi dicevo prima questa bellissima preghiera ecco fin dove è giunta la carità vostra eccessiva Gesù mio amantissimo voi delle vostre carne del preziosissimo vostro sangue apprestata mi avete una mensa divina per donarmi tutto voi stesso chi mai vi spinse a tali trasporti di amore non altri certamente che il vostro amorosissimo cuore o cuore adorabile del mio Gesù fornace ardentissima del divino amore ricevete nella vostra piaga sacratissima l'anima mia affinché in questa scuola di carità io impari a riamare quel Dio che mi die prove e si ammirabili dell'amore suo e così sia attenzione che questa preghiera è stata scritta è stata pensata è stata voluta da Papa Pio VI e poi da Papa Pio VII due Papi che diamo quindi al Signore la grazia di prepararci bene alla festa che celebreremo domani mattina alle sette e mezza con la Santa Messa del suo cuore eucaristico di prepararci bene per portare a coronamento e a compimento in questo giorno così bello del cuore eucaristico di Gesù preceduto dalla natività di San Giovanni Battista che ce lo indica ecco l'agnello di Dio ricordate ecco l'agnello di Dio è lui che ce lo indica ecco essere anche noi capaci di saperlo riconoscere in quel pezzetto di pane in quel po' di vino che con la Santa Messa diventano il suo corpo dato il suo cuore eucaristico dato e il suo sangue sparso si è rodato Gesù Cristo grazie grazie